Grazie per essere qui stasera a questo incontro con Pino Cacucci che immagino tutti voi conosciate bene ma ricordiamolo nel caso ci fosse qualche passante della lettura che è al suo primo incontro con questo straordinario scrittore e viaggiatore ricordiamo che ha una lunghissima traiettoria di narratore e anche di scrittore di viaggio e di traduttore cominciata negli anni 80 e nell'88 Outland Rock poi escono due libri Puerto Escondido e San Isidro Football che gli danno una notorietà particolare anche grazie ai film che ne sono stati tratti poi escono diversi titoli in particolare visto il tema che ci riunisce stasera connessi con il Messico il Messico che per lui ha avuto un'importanza di snodo il paese forse sognato intuito e poi trovato per ognuno di noi c'è una meta un'isola un punto dove si scopre forse il vero luogo che si desiderava e si gettano nel terreno altre radici oltre quelle che ci hanno visti crescere nel caso di Pino, Piemonte, Liguria, Emilia soprattutto la città di Bologna dove vive. Sto parlando di una serie iniziata forse con Tina la biografia della grande fotografa friulana che tanto ha dato e trovato anche lei in Messico Tina Modotti poi la polvere del Messico del 92 la prima edizione poi un'altra cresciuta una serie di incontri, scene, luoghi magistralmente evocati, sentiti, vissuti da Pino una serie di raccolte di racconti, romanzi con questi suoi personaggi sempre magari vinti ma disposti a tutto pur di mantenere la dignità, il fuoco della ribellione ribelli è un titolo importante oltre torrente, altri personaggi messicani straordinari come la Naui, Naui O'Lindi del libro omonimo e altre raccolte di scritti di viaggio di soprattutto persone atmosfere, storie profonde con questa abilità che ha Pino di resa incondizionata fino dall'inizio per lasciarsi piovere addosso con tutti i sensi bene aperti, le storie che gli vengono incontro o che si va a cercare viaggiando. Ricordo Camminando in particolare poi la raccolta dell'anno scorso un po' per amore, un po' per rabbia che ha una parte di viaggio e altre importanti dove tra l'altro trapelano anche alcuni elementi autobiografici e zone di commento di libri, di recensioni e di dialogo con l'attualità, con i grandi accadimenti politico-sociali e adesso le balene lo sanno ma accanto a tutta la sua produzione ci sono molti altri titoli come Demasiado Corazón o Mastruzzi Indaga c'è un'attività costante e intensa di traduttore che spesso propone anche dei libri, fa scoprire degli orizzonti letterari soprattutto messicani e latinoamericani con qualche libro Stella che ha segnato anche la nostra percezione dell'America latina, penso in particolare a latinoamericana, adesso tutti chiamati i diari della motocicletta, c'è il diario di viaggio di Ernesto Che Guevara giovane con Alberto Granado per l'America del Sud del 93 oppure io Marco Marcos il nuovo Sapata racconta del 95. Però anche Pino è la voce di autori come Paco Inazio Taibo II oppure Francisco Coloane a sua volta grandissimo vagabondo e viaggiatore, voce italiana per citare soltanto due dei molti autori che Cacucci ha volto alla nostra lingua. Per Pino il viaggio è in buona misura una specie di istinto di disarticolazione della propria identità, una volontà di uscire dalla pelle che si è ricevuta per entrare in molte altre pelli. In questo credo che ci sia una somiglianza profonda tra il viaggiare e lo scrivere, entrare in altre vite oltre che in altri luoghi. C'è una frase del suo libro precedente che dice che le radici sono importanti nella vita di un uomo ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici e le gambe sono fatte per andare altrove, appunto una volontà di altrove, di frontiera, di apertura verso l'altro e il diverso, con questa precisa sensazione che si respira nelle sue pagine che il senso del viaggio non è la meta ma proprio il cammino e durante il cammino gli incontri che si fanno. Il Messico non poteva che essere il suo destino ideale perché è un paese di mescolanze e quindi di per sé abituato alle diversità è pronto a concedersi se ci si lascia sedurre e poi lo si riseduce di ritorno come ha fatto Pino. Adesso questo suo libro ci porta in quella che fu a lungo creduta all'isola di California, ce lo ricordano nelle prime pagine lo stesso Pino, abitata da amazzoni vestite soltanto da fili di perle con la loro regina Calafia che si trova in un romanzo cavalleresco spagnolo di quelli che fecero impazzire Don Quixote che si chiama La Sergas de Esplandian. Questo viaggio è stato compiuto in compagnia di Alberto Poli, un fotografo, infatti si conclude con alcune belle immagini della Baja California che poi si scoprì non essere isola ma la più lunga penisola al mondo. Alberto Poli che vendeva dischi a Bologna e poi decide di trasferirsi a Todos Santos, un posto di forti reminiscenze musicali nella punta appunto della Baja California. E' un paesaggio impressionante in tutti i sensi quello che ci propone Pino, di vicinanze di solitudini insieme, di cactus grandi come cisterne irsute capaci di contenere centinaia di litri d'acqua in attesa della prossima pioggia che tarderà magari cinque anni, un deserto di saline bianchissime, di cimiteri di auto, di pitture fracassate naturalmente, di pitture rupestri lasciate da civiltà scomparse, di surfers provenienti dalla California, attraverso questo strano imbuto di Tijuana, una delle più frequentate frontiere del mondo e delle più stranamente frequentate tutto sommato, una penisola fatta di storie, dell'unica battaglia importante vinta durante la guerra tra il Messico e gli Stati Uniti grazie alla resistenza degli abitanti di un'oasi, oasi piena di palme da datteri portate da missionari italiani tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, centri minerari, alcuni attivi, alcuni abbandonati, piccole città paradisiache e sonnacchiose ed altre cementificate per il turismo d'elite, fiumi rossi per le fanghiglie, la Bacca California comincia con la foce del rio Colorado e Pino a un certo punto dice arriva pochissima acqua al Messico perché è trattenuta da dighe nella parte statunitense ma per come arriva inquinata forse è persino meglio che se la tengano perché metterebbe in pericolo tra l'altro un cetaceo di quelle latitudini, di quel golfo e i cetacei, io comincerei da lì semmai prendendomi il ruolo di interventi indesiderati in certi momenti per disturbare amichevolmente il fluire della narrazione di Pino, i cetacei sono i protagonisti non soltanto nel titolo, nell'immagine di Cupertina ma sono i protagonisti nel cuore di chi ha scritto questo libro e poi di chi lo legge, noi che lo leggiamo impariamo molte cose su queste, sulle megattere, sulle balene grigie e viene una voglia infinita di conoscere queste creature meravigliose. Vogliamo Pino, se sei d'accordo, cominciare dal occhio del ciclone, da questo tuo dialogo con una specie capace di cantare come molte migliaia, di fare composizioni musicali molte migliaia di anni prima che ci provassero gli uomini. Grazie per tutto quello che hai detto, ora cominciando dal filo iniziale del perché provare a raccontare la Bacca California, e citavi appunto Alberto Poli che conoscevo a Bologna, insomma a certo punto si è trasferito là, per la precisione della città cittadina di Todos Santos. Ecco, io ero già stato in altre occasioni, ma diversi anni fa, per viaggi un po' più brevi o parziali in questa penisola, sempre con la voglia di raccontarne di più, ne avevo sporadicamente scritto. E nel frattempo in questi ultimi anni Alberto che, sì, a Bologna vendeva anche dischi, ma è un musicista, è un fotografo e tante cose, insomma, mi mandava periodicamente delle foto che quando capitavano, come era abbastanza facile, in una Bologna novembrina dove guardavo fuori dalla finestra e mi veniva voglia di buttarmi ci giù da quella finestra, per il cielo grigio, la pioggia che durava due o tre mesi senza fermarsi, più o meno come adesso, insomma, stamattina pioveva ancora, ma non so, qui da voi ci avete il sole, meno male. E allora, insomma, non è che gli mandassi degli accidenti, ma gli rispondevo, grazie, adesso ti descrivo come è qui il tempo. Allora, le foto di Alberto erano, insomma, delle cose, degli inviti a mollare tutto e andarsene, c'è questi cieli infiammati, meraviglie di ogni sorta, ma anche persone, personaggi, animali. E sempre con questo invito latente che comunque lui ripeteva, ma quando è che mi viene a trovare, magari facciamo un giro insieme, ce la vediamo un po' di più questa Baja California. E insomma, col passare degli anni, non molti per fortuna, ho cominciato con lui a lucubrare l'idea di percorrercela tutta tutta, no, non è che c'è tutta la Baja California, però, insomma, quantomeno così vagabondare fermandoci dove c'era qualcuno che avesse qualcosa da raccontarci, essenzialmente. Ora, sì, Alberto vive là, ma per l'occasione è lì, nel senso che si è materializzato, è venuto apposta per l'uscita di questo libro, ha lasciato Todo Santos dove adesso comincia a far caldino in questi mesi, e fra un po' si arriverà un caldo che forse è l'unico, è arrivato a Bologna molto prima dell'emergenza influenza, quindi state tranquilli, potete baciarlo tranquillamente, non c'è nessun problema, però ecco, ha smesso di piovere da poco, insomma, per diversi giorni non ha fatto altro che piovere, era l'unico a Bologna contento, perché dice, ma da me piove ogni cinque anni, cioè qui finalmente, e vabbè, insomma, però ecco, siamo partiti assieme per questo lungo vagabondaggio, con la mia idea, sì, più o meno concreta o più o meno vaga di farci su un libro, però non c'era nessuna tabella di marcia ben precisa, soprattutto non immaginavo che pur avendo visto da lontano in tutti questi anni qualche balena, pur sapendo che sarebbero state citate abbondantemente, perché comunque sono una fonte di interesse più che di attrazione, parlando di questa terra, però non immaginavo che sarebbero diventate più protagoniste che comparse in questo libro, tanto che mentre scrivevo l'emozione di frequentarle lì, di vedere cosa fanno, e di vedere tutto quello che c'è intorno, insomma, a questa venuta delle balene, e poi anche soprattutto il fatto che arrivando nei primi giorni ospite a casa sua, insomma, bastava da casa sua andare su questa sterminata spiaggia che, insomma, accidenti, si ritrova a poche centinaia di metri da dove dorme, mangia e si sveglia, una spiaggia di cui non si riesce a vedere la fine, e insomma queste balene grigie che normalmente lì non ci vengono, cioè non è uno dei loro luoghi di amoreggiamenti, di parto, eccetera, stanno un po' più in su, group dove si radunano, però ogni tanto fanno dei giri, per cui quel giorno, ogni tanto succede, ma non tutti i giorni, non doveva succedere per forza, non è che l'ente turismo aveva organizzato questo spettacolo, però c'erano anche queste centinaia di balene grigie che si rotolavano nel bagnasciuga, come dei immensi cani che giocavano, che giocassero lì, e anche questo era un piccolo mistero, tutti a fare delle illazioni, ognuno ci aveva la sua, ma perché fanno così? E allora chi diceva, ma perché sì, stanno tre mesi senza mangiare, perché hanno già mangiato per tre mesi dalle parti dello stretto di Bering, però scrufulandoli in mezzo tirano su dei crostacei e qualcosa trovano. No, fanno così perché giocano, no, fanno così perché si grattano tutti questi parassiti che gli si attaccano addosso. Di fatto poi, l'unico dato certo è che la costa vicina a Todos Santos è molto particolare, cioè va a strapiombo per centinaia di metri di colpo e quindi loro possono sollazzarsi come da qui a lì proprio, cioè così, cioè stanno lì, che sembra che saltino fuori e quindi avvicinarsi molto alla terra che in qualche maniera, in maniera ancestrale forse ancora le attira, sono molto curiose di vedere cosa succede sulla terra, infatti ogni tanto si mettono in verticale, mezzo corpo fuori e stanno per dei minuti interi immobili a guardarsi intorno e lì possono farlo perché non rischiano di spiaggiarsi, cioè morirebbero soffocate su un basso fondale, non riescono più a respirare, per cui lì se lo possono permettere. Quindi questo è stato l'inizio, l'accoglienza che mi ha dato Todos Santos con questo tripudio di autobus grigi che si rotolavano nella melma lì, cioè buttando all'aria il fondale a pochi metri da noi, cioè stavano così e guardavano. E allora pian piano hanno preso la mano, hanno preso la mano per poi quelle che abbiamo visto da vicino in barca, in questi santuari, insomma anche qui l'occasione per ricordare che il Messico è stato uno dei primi, se non il primo in assoluto paese a tentare di impedirne l'estinzione e quindi più si andava avanti in questo, più tutto il resto sì mi interessava, però le balene diventavano più protagoniste di tanti altri aspetti della barca California. Certo, poi anche una volta tornato qua a Bologna, a casa con tutte queste cose in testa e come imbastirle, mi sono buttato a leggere per mesi solo testi di studiosi che hanno dedicato la loro esistenza a cercare di capire questo mistero. Il resto è un mistero perché sappiamo pochissimo, intuiamo, conosciamo un po' di cose ma non riusciamo a spiegarci come facciano loro a saper fare tante cose, come facciano a comunicare per centinaia o migliaia di chilometri e se quello è un linguaggio, se sono solo segnali che loro sanno decifrare, però sappiamo che comunicano cose concrete. Qui ho trovato un banco di plankton, ho trovato da mangiare, venite qui che ce n'è, oppure ho trovato un'apertura fra i ghiacci per respirare comodamente, potete passare di qui. Sappiamo che comunicano, il problema è capire come. Ha anche dei risvolti buffi questo inizio della ricerca, perché lo dobbiamo forse alla guerra fredda se abbiamo cominciato a capire qualcosa, perché sappiamo che negli anni 50 la marina statunitense cominciò, quando appunto iniziò lo sviluppo dei sonar e dei radar più sofisticati, prima non c'erano, e allora più diventava sviluppata questa tecnologia e più questi notavano che gli oceani sono percorsi da una miriade di segnali, che un senso devono averlo perché sembravano dei codici. E allora chi poteva essere diavoli di russi, ne hanno inventato un'altra, saranno i sommergibili russi, e allora il Dipartimento di Stato, i vari governi, insomma prima uno poi l'altro, cominciano a stanziare miliardi di dollari, dobbiamo capire come fanno i russi a comunicare dal Pacifico all'Atlantico, con questi blip che però hanno delle sequenze che non riusciamo a decifrare, ma si capisce che è un linguaggio. E andando avanti così hanno stanziato talmente tanti miliardi che alla fine qualcuno si è accorto che erano le balene. Però non l'avremmo mai scoperto, perché chi mai avrebbe messo lì così tanti soldi semplicemente per studiare il linguaggio delle balene? Però una volta capito che non erano i sommergibili russi, ma che erano degli animali e dei mammiferi ed erano fatti specie delle balene e le varie specie di balene hanno un loro linguaggio diverso ovviamente, insomma, e dei segnali diversi. Quindi in qualche maniera era stata aperta una strada, non abbiamo fatto tanti passi avanti in più, sappiamo questo ma poco di più, però intanto è già qualcosa. Poi si è arrivati addirittura a scoprire che le megattere non emettono dei versi a caso, ma compongono della musica, cioè che viene tramandata, ripetuta e seguono come uno spartito a memoria in quello che fanno e poi fanno delle variazioni come dei gezzisti, ma insomma più mi addentravo in queste letture più ne ero travolto dal fascino e dalla voglia di saperne di più, rassegnandomi poi a intitolare un capitolo, quel poco che io so, perché tanto alla fine ne so sempre troppo poco. E poi vabbè, oltre a tutto questo c'è quello che faccio quasi sempre quando racconto, più o meno la strada è un filo da seguire, fa da pretesto e poi ti fermi ogni volta che qualcuno ha qualcosa da raccontare. Quindi ci sono tante storie, leggende, aneddoti e storie vera e propria di eventi accaduti che sono poi dovuti a persone che ne sanno di più di me e che così hanno avuto voglia di raccontarmelo. Io sempre vagabondando per il Messico ho la fortuna di incontrare continuamente persone innamorate della propria terra, orgogliose, di grande dignità e spesso di grande rabbia anche per tutte le cose che non vanno bene nella propria terra e quando trovano qualcuno che è incuriosito da questo non chiedono di meglio che raccontartelo. Quindi in questo è molto facile scrivere del Messico, vai là e raccogli. Però la bassa California è un Messico a parte, è un mondo a parte, è una cosa che uno per quanto conosca tutto il resto del Messico, che pure è variegato e che ha infinite differenze da una zona all'altra, la bassa è rarefatta, è spopolata, ma comunque quella meno presenza umana che c'è in qualche maniera induce a più riflessioni ed è anche più intensa quando la incontri. E quindi insomma pian piano si è dipanato questo vagabondaggio che poi ha sortito una serie di cose che non so, non vuole essere niente tutto al tempo stesso, non vuole essere certo una guida, però ci sono tanti luoghi che uno può tranquillamente frequentare, riconoscere, insomma andando là, ci sono, ma poi veri e propri consigli di viaggio non ci sono perché poi chi viaggia sa bene come arrangiarsi. Certo non avrei mai pensato che sarebbe uscito il libro nel pieno di questo putiferio che per fortuna già oggi possiamo dire insomma che si sta sgonfiando molto, ma che ci lascia dei misteri pari quasi a quelli del linguaggio delle balene, insomma perché si sia distrutto il turismo in un paese nel giro di pochi giorni io lo dovrei capire, ma ci sono alla fine, quando hanno detto i morti accertati, cioè per quelli influenzali sono sette, poi al massimo saranno dodici, forse sono venti, ma ogni anno in Italia ne ammazza di più l'impepata di cozze, ma chi se ne frega, ma avete presente su 20 o 25 milioni di abitanti di quante cose si muore a Città del Messico? Cioè ma c'è l'imbarazzo della scelta e proprio quella ci terrorizza. È un po' tutto strano, adesso c'è un fiorire, una ridda di dietrologie delle più... io adesso devo darmi una calmata perché tutti i giorni è in aumento l'arrivo di mail, di studi approfonditi sul perché è successo tutto questo. Mancano solo i marziani, poi ci sono tutti, cioè tutte le dietrologie politiche, economiche, le multinazionali, la visita ovviamente di Obama e quindi questo ha aggravato perché hanno dovuto tappare tutto finché lui non se ne tornava, ma prima ancora c'è stato Sarkozy, che cosa ha fatto Sarkozy? Ha firmato un contratto della multinazionale dei vaccini a Ventis pochi mesi prima che scoppiasse un'epidemia che giustifica l'esistenza adesso della Ventis in Messico. Però poi alla fine è tutto vero e tutto falso, è solo un minestrone di cose che non costituiscono un'informazione attendibile, forse non lo sapremo mai, forse semplicemente si è perso ormai il controllo dell'informazione, non sappiamo più come fare a fermare questa cosa che si autoriproduce da sola, cioè sgorga un panico e si diffonde nel mondo e gli unici che mi sembra che non hanno mai provato del panico per tutte quelle che hanno passato nella loro storia sono proprio i messicani, cioè far provare del panico agli abitanti di città del Messico va sicuro che ce ne vuole, ma manco il terremoto che ne ha ammazzati più di 9 mila è riuscito a farli precipitare nel panico, però certo duole che adesso ci sia questa immagine da appestati, tra l'altro noi stasera stiamo rompendo un tabù, non so quante volte abbiamo citato la parola Messico, perché forse vi sarete accorti che dalla RAI per esempio è stata vietata, è stata bandita, cioè si può dire Messico solo se parli dell'influenza, ma tipo l'altra sera c'era Angela Junior che ha parlato per un'ora dei Maya ed è riuscito per un'ora a parlare dei Maya senza dire mai Messico, allora dove diavolo si è sviluppata la civiltà dei Maya? A Napoli? Cioè da dove venivano? Erano dei Galli? Allora se uno non sapeva già che lui non ha fatto vedere manco una carta geografica, perché non si pensasse al Messico, perché se no la gente cambiava canale, perché ormai siamo a livello che uno pensa di prendersi un virus guardando un documentario. La mattina dopo, alla domenica, cioè io non guardo la televisione di domenica, a volte manco di sera e di giorno, però sapevo perché era stato annunciato un documentario sulla Baja California, dico ah voglio vedere cosa ci fanno vedere. Comincia ed è un documentario su Atene, hanno censurato anche perché magari lo manderanno fra un mese se tutto è passato e così via, cioè prima ancora, poche ore prima di Angela D'Affazio c'era questa specie di Gabibbo dei misteri a buon mercato, come si chiama, Giacobbo, che francamente è un personaggio simpatico, cioè se ne inventa di... cioè i Maya probabilmente erano degli extraterrestri, ma ha detto no non si può dire però c'è chi lo dice, vabbè. E anche lì hanno parlato della profezia che prevede non la fine del mondo, ma i Maya dicevano, in quello che è il 2012 per loro che hanno messo a punto il calendario più preciso della storia dell'umanità, prevedevano con molti anni o decenni di anticipo l'eclissi, insomma conoscevano un sacco di cose più di noi. E allora sancisce questo calendario che nel 2012 c'è uno sconvolgimento, c'è un cambiamento, ma può essere anche un cambiamento in positivo. E allora parlando di questo, dei Maya, anche D'Affazio hanno evitato accuratamente di dire Messico, e anche lì non si sapeva, ma da dove vengono sti Maya, saranno dei cugini degli Etruschi. Ma è abbastanza buffa sta situazione, cioè a me fa riflettere su come siamo ridotti però, ma cosa siamo dei bambini, cioè dobbiamo essere trattati come dei cretini, però tutte le volte ci dimostrano che sì, loro ci reputano dei cretini che adesso non diciamo Messico, se non si inquietano magari cambiano canale. Tornando al tuo libro Pino, anche lì ci sono alcune polemiche importanti, per esempio tu ci ricordi che ci sono ancora due stati presuntamente civili avanzati, la Norvegia e il Giappone, che non hanno abolito la caccia alla balena, insomma. Oltre ai pirati magari islandesi o russi che lo fanno illegalmente, ma sono due stati che... Il problema è che dei russi non sappiamo mai niente, quelli fanno quello che gli pare, almeno degli altri sappiamo. Però ecco, c'è una campagna internazionale che non è riuscita a scalfire però gli interessi economici che stanno dietro alla caccia alle balene. Tu a un certo punto fai un'osservazione sulla quale vorrei chiederti di un approfondimento che mi sembra molto importante. Dici che ogni tanto anche gli schimesi uccidono una balena per una festa rituale nella quale ne consumano una parte infinitesimale e il resto viene buttato via. Ricordi che i discendenti dei Maya proprio ti hanno fatto questa distinzione tra tradizioni buone e tradizioni cattive. Ce ne sono alcune che sono stupide e non è detto che per questo dobbiamo salvarle per folclore. Sì, infatti è stata un'occasione per ricordare questa... tra le tante cose messe in discussione dai Maya che si definiscono zapatisti oggi, comunque dalle comunità indigene del Chiapas, c'è questa messa in discussione salutare delle tradizioni. Cioè ci sono tradizioni che vanno coltivate, dicono loro, l'hanno detto per primi dal 94 in poi, e tradizioni che invece sono solo perniciose. Certo loro si riferivano anche a certi rapporti in famiglia, a certe usanze nel rapporto tra padre, tra marito e moglie, quindi padre della famiglia. Tutto quello che sappiamo è che è duro da sradicare. Non a caso poi sono state soprattutto le donne indigene a fare la vera rivoluzione nelle comunità indigene del Chiapas. E questo l'ho usato per parlare di tradizioni. Dicevano che gli esquimesi hanno questa tradizione, quando devono fare una festa devono ammazzare una balena. E poi dicono che gli Astechi facevano i sacrifici umani, ma chi l'ha detto che fra una balena e un essere umano sia più importante l'essere umano? Cioè può darsi che sia molto più sviluppata l'intelligenza della balena e allora se noi vogliamo fare... in base a cosa lo facciamo la scala? Che noi abbiamo le armi e loro no? O in base all'intelligenza e alla sensibilità? Oppure in base... non lo so. Perché è pericoloso il discorso. Potremmo dover accettare che loro sono più evoluti di noi, i cetacei. Su tante cose sono più evoluti di noi. C'è una cosa interessantissima che tu racconti, per esempio che si è tentato di usare i delfini per azioni belliche e non ha funzionato. E anche il fatto che le balene, queste balene grigie, sanno distinguere tra un umano e l'altro, dici tu, e quindi nelle tre lagune dove si sentono al sicuro, giocano magari con gli umani che vanno a vederle, però mai non c'è una storia di aggressività. No, che ne avrebbero tutti i motivi, non solo, ma poi conoscendo poi lì i barcaioli vedi che a ognuna danno un nomignolo perché le riconoscono e le balene riconoscono loro. Insomma, ormai c'è un rapporto come tra persone che ogni anno per tre mesi tornano a frequentarsi, per cui è anche bufo, è un po' commovente, insomma, sentire i barcaioli che tra loro magari per radio, oh hai visto Pepe, no, Peppa però quest'anno è arrivato in ritardo, che sono migliaia, però molte di queste, per qualche motivo del loro carattere, di come si comportano e magari anche per segni che hanno addosso, insomma, sono individui che dopo un po' che le frequenti li riconosci, li distinguono dall'altro. Tu racconti anche questa testimonianza dello scrittore messicano che ha sentito telepatia con una balena che di fatto ha salvato il loro rompighiaccio, no? Sì, Damel Pupco, che è un poeta e scrittore messicano, che dopo che io gli ho fatto una capoccia così sulle balene, perché l'ho visto poi in realtà nelle Asturie, a Ghicon, al salone del libro iberoamericano, e io ero reduce da questo viaggio, insomma, ero molto carico e anche lui ha cominciato a raccontarmi le sue di esperienze e a un certo punto ha detto ma visto che tu, insomma, mi sembri in grado di recepire, perché se lo racconto ad altri mi danno del mato oppure ci ridono su, e allora io l'ho messa questa cosa, poi uno ci può credere, può pensare che come poeta sensibile è autosuggestionabile, però lui, insomma, questa lancia, questa barca con cui avevano fatto un'escursione nell'Artico, insomma, erano al nord, a un certo punto il barcaiolo guida, che pure era esperto, lì poi, insomma, da come, io poi non ho più una conoscenza letteraria anche per le cose che traduco o che leggo, ma mi raccontava anche lui che a volte per delle mutazioni dei venti improvvise i varchi si chiudono in fretta, cioè si ghiacciano con una tale rapidità che dove prima sei passato ed era aperto ti ritrovi il ghiaccio che si è richiuso e quindi cominciano a girare, a girare, con la, non dicevano nessuno di loro, era una dozzina in tutto, nessuno diceva niente ma l'inquietudine aumentava perché vedevano che il barcaiolo, il pilota, non trovava, non ritrovava più la via per tornare alla nave base che stava fuori da tutto questo, finché non è emersa da un'apertura una balena che li ha guardati, è rimasto un po' li a guardarli e poi lui dice ha avuto un atteggiamento che era impossibile non capirlo, cioè ci ha fatto segno, ci ha detto seguitemi e loro hanno cominciato, poi il barcaiolo evidentemente sapeva che valeva la pena farlo e hanno cominciato a seguirla e la balena li ha riportati alla nave, ma oltre a ciò mentre li portava alla nave lui dice ero lì affacciato e lei era lì, cioè il testone, la faccia lì che ci guidava, ci spingeva quando sbagliavamo e mentre mi guardava mi stava comunicando delle cose, io ho sentito, dice Dammel, distintamente che mi stava comunicando questo non è il tuo mondo, tu qui ci muori se ci torni, per cui io ti porto in salvo ma non ci tornare, cioè lui è convinto che gli ha trasmesso questo avviso, cioè non tornare qui perché hai dimostrato che non sai sopravvivere qui, ma poi sono mille le persone che frequentano, anche leggendo libri di scienziati molto rigorosi e severi anche con se stessi, poi ogni tanto sconfinano nell'intuizione, cioè che la scienza non sa spiegarti cosa provi ma che capisci che c'è una comunicazione con questi animali. Peraltro tu citi anche molto giustamente un piccolo ma importante riconoscimento, quando nella sonda Voyager l'unico suono, l'unica canzone non prodotta dagli umani che è stata scelta da quel comitato preseduto da Carl Sagan è stato proprio un canto di Megattere Maschio, no? Sì, 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 che appunto in queste sonde mandate la Voyager 1 e 2 mandate a perdersi nello spazio che si suppone secoli e magari millenni vagheranno e se ci fosse un'altra forma di vita potrebbe essere, incappare in quest'altra forma di vita la sonda e quindi a bordo sono state messe tutte le informazioni possibili su chi siamo e quindi di tutto ma anche persino letteratura di tante lingue, tutto quello che sono riusciti a farci stare su una navicella spaziale insomma e tanti suoni quindi anche molta musica, non solo la classica ma hanno anche messo delle canzonette che fa scappare da ridere insomma e in tutta questa mole di materiali che riguardano il genere umano uno solo riguarda il mondo animale come lo chiamiamo noi e cioè i canti, le registrazioni di alcuni canti delle Megattere quasi a voler dire a un'altra civiltà chissà quale se esiste, noi sappiamo che sanno fare questo, non capiamo bene perché riescono a far questo, magari voi ci capite qualcosa di più ma ecco c'è una forma di intelligenza su questo pianeta che è l'essere umano ma c'è un'altra che sono le balene e vi mandiamo anche questa insomma, quindi è stato mandato un messaggio delle Megattere a perdersi negli spazi siderali. Da lì questa provocazione poi raccolta in copertina ci vorrebbero le balene al governo del mondo, forse lo reggerebbero meglio. Senti io volevo chiederti di parlare di un'altra cosa, i libri di viaggio sono libri pieni di gratitudine perché naturalmente prima di noi che viaggiamo ci sono state persone che hanno viaggiato, che hanno scritto, vuoi sulle balene, vuoi su quei luoghi, vuoi anche le grammatiche delle lingue che abbiamo imparato per andare sul posto. Tu viaggi anche con dei libri o con dei ricordi di libri, da Steinbeck alle annotazioni di Fellini, ci sono però due casi molto peculiari, uno se vuoi immancabile parlando di balene, cioè Bobby Dick e tu però racconti la storia di Mocha Dick rifacendoti anche alcune suggestioni di Coloane e poi Gabriel Trujillo Mugnoz che è un autore che tu hai tradotto anche in italiano che vive a Tijuana e prova a raccontare la frontiera. Ecco, vuoi dici qualcosa sui libri che ti hanno accompagnato in questo viaggio e in particolare su queste due storie? Beh sì, i più importanti li hai citati tu, è vero che poi ogni viaggio è anche un viaggio con i libri. Alcuni materialmente presenti, cioè alcuni proprio ce li avevo dietro, altri sono un accompagnamento del prima e del dopo, però sono ottimi compagni di viaggio. È ovvio che alla fine poi scrivi e quello che scrivi è pieno anche di riferimenti a chi prima di te c'è stato. Con Steinbeck è facile perché ha scritto il diario di bordo dal mare di Cortez per cui praticamente è questo diario di bordo con l'amico Ed Ricketts che era un biologo e che si fecero tutto il mare interno, cioè il mare di Cortez della Baca California. L'amico in cerca di crostaci, di cose minuscole dentro l'acqua che Steinbeck non sempre capiva cosa Diamine stesse cercando nel bagnaciuga. Però ecco ci ha lasciato delle descrizioni da grande scrittore qual'era su questa continua sensazione di chimera, di miraggio, di non capire bene se stai vedendo delle isole, delle penisole, dei promontori, poi tutto cambia. Questa malia che lo prendeva stando a bordo in questo silenzio assoluto ma dove bastava un fruscio e subito si rianimava tutto di vita. Quindi era facile avere questo come compagno di viaggio, magari più singolare Fellini perché chissà quanti ricordano che lui approdò proprio nella bassa California, per sbaglio nel senso che poi non gli interessava nulla, lui doveva fare questo viaggio, però passando di là da Tijuana a un certo punto si fermò a dormire a Mexicali e questo lo ricorda nel suo block notice di un regista, lui ci ha lasciato insomma una sorta di suo diario di vita e di bordo. Poi moltissimi, poi non so quanti l'abbiano letto, ma tra quelli che l'hanno letto tanti avranno pensato che era tutta fantasia, che erano soggetti di film e invece lui davvero visse questo viaggio ai confini della realtà in Messico dove gliene successe di tutti i colori ma soprattutto dove l'avrebbe dovuto fare dall'inizio alla fine con Castaneda perché lui era attratto dagli iscritti di Castaneda, erano i primi anni Ottanta, metà degli anni Ottanta, anche insomma Castaneda era molto in voga a quell'epoca, poi magari se ne parli con i messicani di Castaneda storcono il naso a dir poco, se chiedi a Paco Taibo dice ma quelle ciarpame per voi europei, perché vabbè bene o male l'accusa verso Castaneda è di avere un po' commercializzato e svilito qualcosa che invece è molto più profondo e radicato e meritevole di rispetto che è tutto un mondo delle culture indigene e della loro conoscenza della realtà e di realtà che magari noi non conosciamo, però ecco Fellini era molto attratto da tutto ciò che riguardava gli universi paralleli, come dire le realtà che si combinano e diventano cangianti e non capisci bene e che poi risolvi tutto con la magia, ma non c'è niente di magia, è semplicemente che non riusciamo a capire e in questo viaggio che poi alla fine fece quasi tutto da solo, però una delle prime tappe in Messico fu a Mexicali e mi piaceva insomma confrontare l'immagine che lui ne ebbe allora che era di uno squallore assoluto, ma vabbè Mexicali non è certo il posto che uno va a visitare se va nella bassa California, è sotto la frontiera, non è Tijuana perché poi tutti i traffici avvengono a Tijuana, però Mexicali è un'invenzione così come Calexico, Calexico poi è anche un gruppo musicale che io amo molto, ma queste due cittadine, città ormai metropoli addirittura, sono state inventate Mexico-California, Mexicali, California-Mexico di là, Calexico e quindi da qui si deduce che sono proprio delle creature dell'altro ieri, per cui lui c'è arrivato che insomma la stavano cominciando a edificare, insomma è una città poi tutta canalizzata per le coltivazioni, ma alla fine nel deserto e Trujillo Munoz mi ha regalato questo suo scritto riflessivo su che cosa significa vivere alla frontiera per eccellenza, per antonomasia, la frontiera Messico-Stati Uniti e secondo me mi ha fatto un bel regalo perché lui è un grande scrittore a mio avviso e riesce a rendere in una pagina, due, che cos'è questo quotidiano sentirsi parte di qualcosa e nello stesso tempo non essere parte di niente perché è un mondo in continua mutazione quello della frontiera, sognare sempre di essere di là ma essere orgoglioso di essere rimasto di qua e quindi insomma così è uno dei tanti tributi, lui addirittura essendo più o meno mio coetano e quindi mi ha regalato una pagina inedita che c'aveva nel computer di una sua riflessione su cosa significa vivere alla frontiera. Ci sono diversi punti nel tuo libro dove si percepisce questo miraggio stainbecchiano, cioè qualcosa che è una specie di cortocircuito tra la realtà e la fantasia, per esempio tu ci parli di Hotel California che gli Eagles giurano di non avere mai visto, adesso ci abbiamo il testimone diretto, ci va spesso a suonare, a mangiare, a incontrare amici. A fare il James Session, frequentato tuttora a Todos Santos da musicisti soprattutto nordamericani, però il proprietario di questo Hotel California lascia trapelare che potrebbe essere quello, non dicono niente, non negano perché l'Hotel California ormai vive di una leggenda inventata ma che alla fine come tutte le cose inventate ha fura di lasciarle correre e diventano vere. C'è un altro locale di fronte che si chiama Tequila Sunrise, che è un'altra canzone, quindi non vuol dire nulla, però di fatto quello su cui spingono l'ora è questo, è chiaro. Beh in Malesia ci sono gli Hotel Sandokan, anche se Salgani non ci è mai andato, però c'è un'altra storia ancora più incredibile, quella che tu racconti delle paperelle di plastica, che non so se la vuoi brevemente raccontare. Sì, queste poi sono le cose che magari sono lì in un angolo della memoria, per cui tanti di voi avranno visto, ne sono usciti anche articoli in Italia ogni tanto, di queste paperelle che vagano per gli oceani, cioè tanti anni fa è cascato in mare un container da una nave cinese che stava trasportando tonnellate di paperelle di plastica, quelle che si mettono nella vasca da bagno ai bambini, il container si è aperto e milioni di paperelle vario pinte sono rimaste a galleggiare e non c'è niente che le distrugga, allora dopo un po' di tempo alcuni oceanografi eccetera, geografi, hanno cominciato a dire ah ma vedendo come si spostano queste paperelle possiamo studiare le correnti e queste paperelle a gruppi spesso molto numerosi si sono divise in base alle correnti e quindi è un po' buffa sta cosa, ci vedete dei seriosi studiosi che si comunicano fra di loro dove sono oggi le paperelle, cioè quanti chilometri hanno fatto in quest'ultima settimana, in quest'ultimo mese. Ma poi c'è anche i collezionisti. No, poi praticamente su ebay le trovate all'asta perché chi riesce a prendere una di queste paperelle che dice ma come fai a sapere? Beh si sono un po' stinte, hanno delle incrostazioni, insomma lo studioso riesce a stabilire che da anni che sono in acqua a galeggiare. Però poi avendo questa così caffata scusate in testa, che però è curiosa, arriviamo in questa spiaggia che è Malarrimo, che è un posto incredibile, surrealismo puro, perché è uno di questi luoghi al mondo dove per gli scherzi delle correnti tutto quello che finisce in mare e finisce lì. C'è tutto quello corposo, c'è tutto quello che avanza da un naufragio. Il problema è che ci finisce anche tutto quello che gli eserciti e le marine militari sparano in mare, per cui questa spiaggia è piena di torpedini, missili, razzi, bersagli aerei, c'è di tutto. Spesso gli artificieri messicani devono andare lì quando arriva qualcosa di nuovo a vedere se è ancora carico o se è inerte. E l'hotel e il ristorante vicino a questo posto è un museo di ciarpame, tutto quello che raccolgono, ma ci trovi di tutto. Messaggi in bottiglia, vabbè, hanno smesso di raccoglierli perché ne hanno tonnellate, ma lì vedi quante cose buttiamo in mare, quelle sono quelle che si vedono e quindi ti fa anche riflettere su questo, tra cui ogni tanto arrivano delle paperelle ovviamente anche lì, aggruppenti, per cui, però, ecco, non gliene può fregare di meno, lì o non lo sa, non gliene frega veramente niente, non ho percepito la gara ad impossessarsi della paperella, però di fatto tra i tanti, ecco, tracciati, lasciati dal percorso delle paperelle, alcune hanno preso anche la bassa California e si sono avvicinate alla spiaggia di Malarrimo, che vuol dire Malarrimo, cioè, insomma, è intraducibile, però il senso lo si capisce là, cioè, arrimarsi vuol dire approcciare, attraccare, per cui un Malarrimo è un brutto modo, cioè, questo mare lì ti sbatte tutto quanto su quella spiaggia lì. Nel libro c'è anche un leitmotiv di cose che hai scritto sul Messico, ma che resta molto attuale, prima dicevi che siamo presi in giro dall'informazione, anche da come ci hanno raccontato la storia, soprattutto i film di Hollywood. Torniamo sulla guerra Messico-Stati Uniti, sulla politica del destino manifesto degli Stati Uniti a occupare la metà del Messico che si portarono via nel 1848 e anche il fatto dell'epopea, tu tocchi proprio un punto cinematograficamente forte, l'epopea di Fortalamo, quando giustamente si trattava di una manica di Gaglioffi, no? Tagliagole addirittura. Eh sì, lì, beh, insomma, non dominerebbero il mondo se non fossero più svegli degli altri, cioè gli Stati Uniti hanno sempre saputo cogliere l'epicità nelle porcate, cioè nel senso che la battaglia di Alamo, ma che fu una battaglia, cioè dentro Alamo si rinchiusero questi banditi, cioè trafficanti di armi alcolici, stupratori, protettori di prostitute, insomma, biscazzieri. Il problema è che erano texani e volevano fare i fatti propri a casa degli altri. Il Texas era parte del Messico, aveva delle leggi in base alla Costituzione messicana che prevedevano tante cose, tra cui l'abolizione dello schiavismo. Anche in questo il Messico è stato uno dei primi paesi del continente ad abolire lo schiavismo, col cavolo che i texani volevano abolire lo schiavismo. Allora nel momento in cui i coloni statunitensi degli Stati poco più a nord del Texas, quando il Texas era ancora il Messico, hanno avuto il permesso di cominciare a colonizzarlo perché il governo messicano ha detto, beh, va bene, in effetti sì, ci sono tanti spazi, noi siamo pochi, se rispettate le nostre leggi perché non permettervi di mettere su delle fattorie, allevare, coltivare. Solo che pian piano hanno cominciato a rendersi conto che non rispettavano le leggi del Messico, tra cui c'era anche quella di non poter girare armati. E così pian piano si è creata l'identità texana, che in realtà non esiste, cioè è di coloni quasi sempre molto spietati, che con la popolazione locale che era messicana si sono comportati in maniera efferata. Quando hanno cominciato a dire, vabbè, adesso ce lo teniamo noi, e allora l'esercito messicano è stato costretto a intervenire, a dire, no, questo è territorio messicano. E così hanno inventato l'epopea di Alamo. Il cinema poi ce l'ha con John Wayne nel massimo della forma. Però ecco, fu una campagna ben orchestrata perché mentre al resto degli Stati Uniti non gli importava nulla e mentre il resto degli Stati Uniti, soprattutto gli Stati del Nord, vedevano di malocchio la costituzione di un Texas prima indipendente e poi unito all'Unione, perché comunque iniziavano tutte quelle lotte intestine che porteranno di lì a pochi anni alla guerra di secessione e quindi il Texas avrebbe fatto d'ago della bilancia perché era molto grande, molto anche, insomma, ormai cominciava ad acquisire forza, per cui una volta che il Texas era uno Stato prima indipendente e poi parte dell'Unione avrebbe spostato l'ago della bilancia più a favore degli Stati del Sud che di quelli del nord. Però nonostante ciò hanno armato quest'epopea facendo in modo che con una provocazione insopportabile si sono fatti comunque assediare l'esercito del messicano, ha dovuto riprendersi Alamo perché era nel cuore del suo territorio e questi cocciuti, che forse lì sì già c'era l'identità texana, piuttosto si sono fatti ammazzare e da lì, remember Alamo, è diventato il motto, la parola d'ordine per tutti gli statunitensi che a quel punto hanno sentito la sferzata del nazionalismo e hanno detto no, dobbiamo andare a aiutare questi fratelli texani. Ed è iniziata la guerra di invasione del 1847 che è convenuta agli Stati Uniti perché hanno preso metà del Messico, quindi sappiamo che tutta la fascia che va dalla California, Arizona, New Mexico, Colorado, Utah, Texas, un bel po' di territorio, se lo sono preso loro e si sarebbero presi anche la bassa California se non fosse per una piccola battaglia che insomma così, adesso poi la racconto lì, ma in qualche modo ha fatto un po' da contraltare, cioè se con Alamo sono stati abili nella comunicazione, poi i baja californiani sono stati abili nel trasformare una battaglia tutto sommato contenuta in cui sono riusciti a ributtare amare i Marines, ma non è che sono stati scontri fra cavallerie, artiglierie, no, la popolazione del luogo con un drappello di soldati per tutta la giornata ha ingaggiato combattimenti nel palmetto, loro conoscevano il palmetto, i Marines no, per cui li colpivano facilmente e alla fine se ne sono dovute andare. Fin lì niente di grave, cioè poche perdite tutto sommato, però la notizia allora a quel punto hanno fatto l'inverso che Alamo, si è propagata in tutta la bassa California che gli invincibili Marines potevano essere sconfitti e così in tutte le città, soprattutto nei villaggi, non totalmente sotto il controllo dell'esercito statunitense che già controllava le principali città, era già la PAS, hanno cominciato ad accendersi i focolai di guerriglia spesso animati dagli sacerdoti del luogo e così di fronte all'ipotesi di portare avanti una guerriglia per niente perché non c'era il petrolio in California, nella bassa California, il clima arido, per loro era appetibile l'alta California, infatti si vede che è lo stato più prospero e produttivo di tutti gli Stati Uniti, quella sì che gli faceva comodo, ma la penisola desertica hanno detto ma sì tenetevela. Ecco, vedete quante cose ci sono in questo scrigno di libro. Io credo che forse sia giunto il momento di dare la parola al pubblico, se c'è qualcuno che ha delle curiosità, delle domande da spartire con il nostro ospite, molto volentieri Pino risponderà. L'ho già raccontato tutto io, però non c'è più niente da dire. No, invece c'è molto di più. Io adesso non la tirerei tanto per le lunghe perché o mi conoscete o mi conoscete poco, non mi conoscete per niente, più o meno così. Spero che sia stato, non dico piacevole, ma comunque non noioso per voi chiacchierare insieme di questi aspetti di un pezzo di Messico e quindi ci diamo la rivederci alla prossima occasione. Comunque, ora se qualcuno poi adesso io non scappo via subito, purtroppo la giornata è stata lunga ma sta finendo e fra non molto avrò un treno che mi riporta a Bologna, in questo caso non molto lontano, cioè non ne manca un viaggio, però purtroppo abbiamo questo problema che di notte i treni per cui l'ultimo bisogna prenderlo, quindi non mi tratterò molto ma comunque ecco, ancora un pochino qui ci starò. E purtroppo le prossime elezioni non avremo ancora balene candidate ma potremmo portarne quel punto. Sono troppo evolute per formare dei partiti, loro non ne hanno bisogno. Il fatto che siano più evolute è che riescono a vivere in maniera solidale comunitaria senza bisogno dei capi e questo per noi è inimmaginabile. Come fai senza uno che ti dà gli ordini? Cioè infatti noi continuiamo a dire anarchia come sinonimo di caos, che poi anarchia vuol dire assenza di governo, ma questo paese senza un governo andrebbe molto meglio, ma questo paese va avanti malgrado i suoi governi, non dico il ma i suoi governi. Per cui anarchia, cioè alfa privativo, assenza di governo, ma magari ci fosse assenza di governo e le balene lo sanno.